Grazie Presidente, cari colleghi, signor Commissario. Ma pare chiaro che la Cina non ha alcuna intenzione di trattare, di dialogare sul Tibet. Il coinvolgimento della Cina nel commercio internazionale, i giochi olimpici, i cambi che ci sono stati in passato alla leadership a Pechino non hanno portato a nessun cambio di politica sostanziale. E nel frattempo si continua con una lotta fra Davide e Golia, soprattutto con alterazioni demografiche e degli equilibri demografici in Tibet che sono molto preoccupanti e quando occorre anche con repressione militare, come è accaduto due anni fa. Soprattutto quello che a nostro modo di vedere è un patrimonio dell'umanità, che è la cultura e la spiritualità tibetana, si sta disperdendo. Certamente il Partito Comunista cinese di spiritualità e di specificità culturali capisce molto poco. Sotto questo profilo, se accettiamo quello che può essere definito un genocidio culturale in Tibet, dovremo essere pronti ad accettarne molti altri successivamente. Non molliamo le richieste che noi facciamo innanzitutto ai cinesi di accettare il mondo tibetano per quello che è. Hanno accettato la specificità di Hong Kong con un paese con due sistemi, accettino di avere un paese con tre sistemi. La Cina ha le spalle abbastanza larghe per poterselo permettere. E alle istituzioni europee chiediamo, dalla Ashton al Consiglio e incoraggiando anche, come ha fatto la collega del Partito Popolare, la creazione del coordinatore per i problemi tibetani, di non tradire le aspettative dei cittadini europei che hanno dimostrato in tanti modi il loro affetto per la causa tibetana. È una battaglia di libertà, è una battaglia quindi che tocca l'identità del nostro continente. Quando si tratterà di rinnovare o meno l'embargo alle armi cinese, credo che anche di questo dovremo tener conto. Grazie.